Buonasera a tutti, questo è un incontro che noi della lista tollo nel cuore abbiamo voluto con tutte le associazioni. Premetto che per me le associazioni è la parte vitale di una comunità, quindi del nostro comune. Avere l'associazione per me è come una linfa vitale per tutto ciò che comporta le attività connesse e quindi è un elemento aggiunto che noi non possiamo non valutare. Io credo e ho sempre creduto fortemente agli uomini che lavorano per dare del loro meglio e quindi questa sera affronteremo tutti i problemi che abbiamo davanti con le nostre associazioni. Prima di passare io personalmente a delucitare alcuni aspetti importanti di questa riunione faccio presente che qui ci sono cinque componenti della milaista, due mancano per motivi non dipendenti alla loro volontà e abbiamo il dottor Carmine Rabottini, abbiamo il tecnico Tiberio Luigi, il sindaco Gellorito Angelo, la mia destra la dottoressa Salemme Laura e l'avvocatessa Lombardi Susi, Maria Susi, detta Susi e manca l'avvocato di Giondo Luciana e la studentessa Marini Simona. Quindi passo la parola al nostro assessore Tiberio Luigi che vi parlerà delle sue tematiche. è da ben capire che nella nostra lista ognuno ha un ruolo ben preciso. Angelo il sindaco si occuparà di tassazione e bilancio, Luigi ambiente e energia, Carmine agricoltura, Laura scuola e infanzia, Susi di sociale, Luciana famiglia e rapporti con le associazioni, Simona De Giovani e io giustamente farò un po' d'accordo nel torri di tutto perché se siamo una lista, la lista ognuno deve mettere del proprio meglio e quindi in questo modo veramente siamo una squadra. Quindi noi crediamo nell'unità, non nei singoli, noi crediamo nel gruppo. Il gruppo è fondamentale per fare squadra e per avere i migliori risultati. Quindi passo la parola a Tiberio Luigi, assessor uscente. Buonasera. Vi posso raccontare rapidamente che cosa abbiamo realizzato o meglio realizzato il fatto di ambiente ed energia in questi tre anni, gli ultimi tre anni di incarico. Vabbè, velocemente il 63% di raccolta differenziata è il premio come comune riciclone. Ci sono dei servizi aggiuntivi che devono essere ancora contabilizzati, quindi ci si aspetta di poter aumentare la percentuale di raccolta differenziata con la raccolta degli oli esausti e anche degli abiti. In termini di raccolta vorrei aggiungere che la proposta è anche quella per il prossimo mandato di creare un centro per i fitofarmaci scaduti usati, materiale di risulta di lavori fatti in economia in casa e quanto può essere utile per andare incontro alle esigenze dei cittadini. In termini di energia i pannelli fotovoltaici ci portano un bel po' di risorse al comune, abbiamo già tre impianti, uno sull'edificio comunale, uno sugli impianti sportivi e un megawatt a terra, rimarrà l'unico impianto a terra. Gli altri fanno parte del progetto che abbiamo presentato un mese fa, è il piano per l'energia del comune di Tollo, il cosiddetto SEAP. Sono finanziamenti europei che ammontano circa 2 milioni e mezzo di euro per progetti di efficientamento nell'ambito del comune. Mi fermo qui nel dire quello che è stato fatto. Ho una proposta per le associazioni e un progetto, ora evidentemente non tutte le associazioni sono interessate a questa cosa, però avevo in cuore sempre nell'ambito della mia attività e delle mie competenze di realizzare, e quindi sempre nell'ambito della sostenibilità, di realizzare un centro di raccolta. Su questo ho cercato già di una sponda nel passato, però mi sono arreso perché gli altri impegni erano abbastanza importanti, perché ho iniziato a vedere delle difficoltà. Quindi chi potrei coinvolgere? Mi sembra che nell'ambito delle associazioni potrebbe anche esserci qualcuno che ci dia una mano su questo. Un luogo in cui creare un mercatino dei prodotti di cui ci andiamo a disfare. Io vedo che buttiamo un bel po' di materiale ingombrante, cosiddetto ingombrante, mobili su pelletti di varie che abbiamo in casa e questo materiale viene raccolto dal servizio di igiene urbana che ce la fa pagare a caro prezzo e va a smaltimento. Quindi noi andremo a pagare un prezzo, la collettività paga un prezzo, invece potremmo creare su questo, ripeto, invito le associazioni a collaborare, chi può, chi ha le competenze del caso, certo l'associazione sportiva probabilmente non è interessata a questo aspetto, quindi trovare una zona e realizzare questo mercato in cui chi si deve disfare di questo materiale lo porta lì, si applica un prezzo minimo che fa sostenere chi ci lavora, può sostenere anche le utenze del luogo, insomma paga lo sforzo e secondo me è una cosa che può funzionare, in più in questo modo si libererebbero delle risorse per il comune, perché ottenute dal risparmio dello smaltimento. Quindi su questo adesso questa cosa va studiata e programmata adeguatamente ed è questa la mia proposta. Passo alla parola alla dott. Salemme Laura che si occupa soprattutto della scuola. Buonasera a tutti, mi presento, sono Salemme Laura, sono al mio primo incarico diretto in politica, quindi ho accettato questa candidatura con grande orgoglio e ho accettato di occuparmi soprattutto della scuola, dei nostri ragazzi dell'infanzia, perché comunque è qualcosa che io vivo direttamente, mi riguarda direttamente essendo madre di tre figlie e posso, ho sentito di poter mettere la mia esperienza e anche la mia professionalità a servizio del nostro Paese, del Paese in cui vivo e in cui le mie figlie stanno crescendo. Posso mettere al servizio della scuola anche la mia professionalità perché in fondo io sono medico specialista in igiene e medicina preventiva e una branca della mia specialità riguarda proprio occuparmi dell'igiene, della salubrità degli ambienti che possono essere privati, quali le fabbriche o pubblici, quali appunto gli ospedali e le scuole. Quindi direttamente farò questa cosa. Per quanto riguarda la scuola è un argomento molto importante, ho riflettuto fra me e me, occupa un quarto della nostra esistenza, siamo direttamente interessati prima come alunni poi come genitori e pertanto è molto importante occuparsi seriamente della scuola. Per quanto riguarda la scuola il Comune di Tollo ha già fatto tantissimo riguardo agli asili. Un asilo nido è già pronto, è un pacchetto confezionato pronto ad essere attivato ed è già presente ed è stato realizzato dall'attuale amministrazione. Per quanto riguarda le scuole materne ne abbiamo addirittura due. Abbiamo una materna comunale che funziona bene e di cui i genitori sono molto contenti. Abbiamo una materna statale che funziona altrettanto bene, all'interno di un edificio messo perfettamente a norma, sempre dall'amministrazione attuale. Pertanto per quanto riguarda gli asili e le scuole materne siamo tranquilli e direi che meglio di questo non si può chiedere. Per quanto riguarda le scuole elementari, mi occuperò personalmente delle scuole elementari, non abbiamo grossi problemi, mi occuperò personalmente dell'igiene all'interno degli ambienti scolastici, dell'igiene al di fuori della pulizia, anche al di fuori degli ambienti antistanti e circostanti la scuola. Per quanto riguarda le scuole elementari una cosa possiamo fare è dotare i ragazzi di una sala mensa nei giorni in cui staranno a scuola per il pranzo. La sala mensa l'attrezzeremo quanto prima, potremmo servirci nel primo periodo di un catering esterno che ci porterà i pasti direttamente a scuola. Altra cosa che vi stupirà quanto prima possibile, apriremo al più presto possibile il nuovo polo scolastico per le scuole medie. Aprendo il nuovo polo scolastico delle scuole medie noi risolveremo un altro annoso problema che è quello della palestra per i ragazzi delle scuole medie che sono costretti nei mesi invernali a spostarsi dall'attuale istituto in cui vanno a scuola fino all'istituto delle scuole elementari, fare attività fisica, poi sudati, comunque ripercorrere la strada anche sotto intemperie e questo si risolverà con l'apertura del nuovo polo scolastico. Queste sono cose che ci richiederanno sforzi, impegno e anche sforzi economici, però pensando tra me e me ho pensato che con il mio buonsenso avrei potuto fare altri interventi, posso fare altri interventi che comunque saranno graditi ai bambini e non ci costeranno nulla. Ho pensato che quando io ero più piccola e andavo a scuola festeggiavo il carnevale con le mie maestre, con il mio maestro, con i miei compagni. Ecco, una cosa che potremmo fare è restituire la festa del carnevale ai bambini delle scuole primarie, almeno a loro e questa sarà una cosa graditissima secondo me a tutti i bimbi. Un'altra cosa che potremmo fare per loro ed è dettata solo dal nostro buonsenso, ripristinare i giochi della gioventù, perché no? Spingerli ad un sano spirito di competizione e farli crescere in modo sano. Altra cosa ancora che potremmo fare per loro, anzi che dovrò fare come medico, in qualità di medico, è ripristinare la medicina scolastica. Questa è una cosa importantissima secondo me e la farò direttamente in prima persona. Mi servirò dell'ausilio di miei colleghi specialisti nei vari settori e ripristinerò le visite mediche tra i bambini della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media. Si tratterà di visite ortopediche, odontoiatriche, oculistiche. visiteremo io in prima persona insieme con i miei colleghi anche i bambini della scuola materna, perché a volte un banale plantarino ci può aiutare a correggere un principio di scogliosi e preso in tempo è un grande aiuto per le famiglie. Questo per quanto riguarda la scuola, invece per quanto riguarda l'infanzia una cosa importante che possiamo fare è realizzare una pista ciclabile con all'interno un parco dove poter accogliere le famiglie, i ragazzi e farli vivere tranquilli e farli vivere all'interno della natura, un polmone verde nel nostro paese. Sicuramente porterò allo studio una piscina intercomunale che raggrupperà bacini di utenza dei comuni limitrofi. Potremmo anche costruire questo piccolo gioiellino per tutti noi, per il nostro paese. Potremmo riattivare scuole calcio e coinvolgendo privati riorganizzare la scuola calcio a tollo, che in questo momento non c'è. Tante cose possono essere fatte, le faremo sicuramente tutti insieme, insieme con il vostro sostegno. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti. Adesso Carmine Rabottini. Buonasera a tutti. Sono Carmine Rabottini, mi occupo di agricoltura sia come professione sia per il ruolo che rivesto. Come tutti sappiamo l'agricoltura per tollo è un'attività che ha avuto in passato e ha tuttora un peso molto rilevante nell'economia complessiva, per cui strategicamente è un'attività estremamente importante. A tollo esistono due realtà produttive di tipo cooperativo che sono molto importanti e che rappresentano nel panorama regionale due realtà, chiedo scusa per la voce, purtroppo non sono in perfette condizioni. Come dicevo a tollo esistono due realtà cooperative che hanno un ruolo estremamente rilevante nell'economia vitivinicola dell'intera regione. Quello che volevo dire sostanzialmente è che nel corso degli anni l'economia di questo paese si è andata anche trasformandosi. In passato anche l'uva da tavola aveva un ruolo estremamente importante, poi pian piano c'è stata una trasformazione, un passaggio verso l'uva da tavola e oggi tollo può essere considerato a tutti gli effetti un paese la cui attività prevalente per quanto riguarda il settore agricolo è fondata sulla produzione di uva da tavola. Quindi questa analisi dello scenario attuale è fondamentale per sostanzialmente sviluppare tutti i ragionamenti del caso. Che cosa è stato fatto? Credo di importante per quanto riguarda il recente passato. Da parte degli operatori con il supporto poi del comune è stato ottenuto il riconoscimento di una denominazione di origine qui nel territorio chiamata Teatretollesi o Tullum. Questo nome naturalmente deriva da retaggi storici di insediamenti romani presenti in questo territorio. Quindi grazie all'impegno delle realtà produttive locali e con il supporto del comune si è ottenuto questo riconoscimento. Questo riconoscimento che credo debba permettere anche di fare una considerazione importante che magari in altre occasioni è stata tralasciata. Ovvero che Tollo ha avuto per quanto riguarda il panorama vitivinicolo ed ha tuttora un ruolo preeminente e di indirizzo. Infatti grazie anche al percorso che ha portato a questo riconoscimento tutta la regione Abruzzo ha sostanzialmente visto una ristrutturazione del panorama delle denominazioni in corso con l'istituzione a fianco a quelle che erano le denominazioni storiche di Montepulciano e Trebbiano della nuova DOC o DOP in questo momento Abruzzo con tutte le sue tipologie. Questo passaggio ci ha sostanzialmente permesso di recuperare anche da un punto di vista di strumenti commerciali del tempo rispetto ad altre regioni che avevano sostanzialmente visto queste iniziative realizzarsi in epoche passate. Quindi sostanzialmente questa cosa ci ha permesso di avere nuovi strumenti per generare reddito. E proprio da questo presupposto è nata questa iniziativa che come ha detto il Comune ha supportato anche se il suo raggiungimento ha visto un percorso piuttosto accidentato. Però l'importante è che poi si sia giunti ad ottenere questo riconoscimento e questo anche per porre un discorso di credibilità su chi poi effettivamente ha creduto in questo progetto e questo progetto poi lo vuole anche sviluppare. Quindi cosa può fare il Comune per quanto riguarda il discorso agricoltura? Da un certo punto di vista purtroppo le iniziative sono abbastanza limitate. Sicuramente c'è da tenere presente che qualsiasi iniziativa non può prescindere dalla collaborazione e dalla al supporto a eventuali attività che le realtà locali presenti nel mondo agricolo, mi riferisco specificatamente a Cantina Tollo e a Cantina Coltivatore Diretti, avranno o potranno mettere in campo per supportare quel processo di valorizzazione del territorio che serve poi ad arricchire da un punto di vista economico le produzioni ottenute da questo territorio. Proprio a supporto del concetto di valorizzazione il Comune nella redazione del piano regolatore generale ha sostanzialmente inteso esaltare un po' il concetto di vocazionalità del territorio introducendo degli strumenti di protezione per quanto riguarda le zone di maggior pregio dal punto di vista agricolo attraverso una limitazione della edificabilità di questi suoli. Questo concetto verrà ancora di più esaltato una volta che da parte delle due strutture sarà completato il progetto di zonazione, ovvero il progetto attraverso il quale si vanno proprio a identificare scientificamente attraverso l'analisi di un insieme di parametri quelli che sono i concetti di vocazionalità del territorio che poi serviranno anche da un punto di vista commerciale a esprimere il cosiddetto terroir, il cosiddetto strumento che da un punto di vista di comunicazione sul vino hanno poi un ritorno da un punto di vista economico. Come dicevo con la conclusione di questo territorio poi i risultati potranno essere inseriti nella variante al piano regolatore generale esaltando ancora di più diciamo quelli che sono gli obiettivi di tutela del territorio e della sua valorizzazione. Altre attività che il comune può supportare possono essere rappresentate anche da iniziative che il consorzio tutela Tullum, poiché a Tullum esiste un consorzio tutela con un presidente che è il dottor Giancarlo Di Ruscio iniziative che questo consorzio intende e intenderà realizzare ai fini della promozione e dell'attività di promozione di informazione con la misura 133 del PSR e quindi diciamo attraverso queste iniziative far conoscere quella che è la produzione locale quella che è la doc Tullum contribuendo quindi a innalzare quello che potrà essere il livello reddituale di queste produzioni. Certo quindi da affiancare a tutte queste attività anche il concetto diciamo di tutela dell'ambiente. Penso per esempio a un'iniziativa che con la serie di riforme che si stanno portando avanti a livello comunitario, mi riferisco alla nuova OCM quindi al primo pilastro della politica agricola assieme anche ai nuovi PSR che saranno volti principalmente alla tutela dell'ambiente, una delle iniziative che si potrebbe sviluppare assieme come dicevo alle due realtà locali ma anche a qualche attività privata presente sul territorio potrebbe essere quella di limitare, infine anche a impedire diciamo l'utilizzo in alcuni interventi antiparassitari, mi riferisco in uno specifico per esempio alla tignola ad impedire l'utilizzo di prodotti di sintesi utilizzando il cosiddetto concetto di confusione sessuale o altre iniziative che si potrebbero per esempio mettere in campo l'attivazione di uno sportello che funga da informazione per le aziende agricole presenti sul territorio questo perché? Perché come dicevo in Sede Comunitaria sono in via di definizione una serie di variazioni alle normative amministrative presenti per cui le aziende agricole saranno probabilmente ancora di più di oggi operate da adempimenti amministrativi e da adempimenti legati al cosiddetto concetto di condizionalità di multifunzionalità e diciamo di difesa o di presidio del territorio stesso per cui in affiancamento a questo ci saranno anche nuove normative per quanto riguarda la sicurezza e altre materie similari per cui sarà importante fornire alle aziende agricole queste informazioni che poi permetteranno a queste aziende stesse di adeguarsi a questi vincoli che andranno a nascere Certamente questi concetti naturalmente possono essere affiancati dal cosiddetto concetto di diversificazione aziendale che ha visto nascere sul territorio anche delle iniziative volte ad integrare il reddito degli agricoltori sono stati per esempio presentati diversi progetti di agriturismo e quindi attraverso la realizzazione di questa DOC e quindi un concetto che possa servire per attrarre i cosiddetti turisti del vino in questo territorio queste attività potrebbero trovare una loro realizzazione permettendo un po' di integrare il concetto reddituale certo è che sicuramente queste attività come anche detto in altre occasioni da parte di altre persone anche piccole iniziative di produzione di marmellate e altro sicuramente non potranno rappresentare una soluzione delle problematiche reddituali del mondo agricolo problematiche reddituali che sono legate in maniera indissolubile all'andamento di mercato e quindi se una condizione generale è di una certa situazione difficilmente poi queste piccole attività possono effettivamente rappresentare una risoluzione delle problematiche economiche per cui da questo punto di vista il fatto di puntare, di avere questo strumento rappresentato da questa DOC sulla quale poi bisognerà investire risorse da parte delle, non del comune ma da parte delle attività economiche presenti sul territorio sicuramente potrà rappresentare per le aziende agricole presenti oggi su questo territorio una nuova possibilità di sviluppo così come c'è stata negli anni 80 a seguito dell'introduzione della vite da tavola soprattutto in cultura protetta, ahimè un'attività che purtroppo ci siamo lasciati sfuggire come dicevo questa coltivazione dell'uva da vino potrebbe rappresentare una nuova opportunità e chiudo dicendo che praticamente anche attività che il comune ha messo in cantiere ha realizzato di recente come la manifestazione per legare ed esaltare il cosiddetto gusto dei giovani se riproposte per il futuro e magari amplificate anche con la collaborazione di voi associazioni possono rappresentare anche esso stesso un veicolo di promozione stessa del territorio e della sua produzione principale ovvero del vino del territorio di Tollo e quindi della sua doc di appartenenza ovvero Terre Tollesi o Tullum per cui chiudo qui il mio intervento e si prendo la parola al candidato Sim Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti